Non ce l'ho fatta a non fare sto video, ma non tanto per quello che vi racconto, ma perché ho scoperto che a Parma le automobili elettriche le chiamano tripla a chiocciola, meraviglioso, fa troppo ridere, tripla a chiocciola, va bene, lasciamo perdere, detto questo, lasciamo perdere, tripla a perché comunque sono poca corrente, e poi chiocciola perché è inclusiva, hai capito, muvac gear, allora dai scherzi a parte, scherzi a parte in realtà ho visto che poi chiamano le plug-in tripla a, e invece le a a a sono quelle gas metano gpl e ibride, meraviglia, meraviglia veramente, allora detto questo, bellissimo, detto questo, allora, dai andiamo avanti, allora perché faccio sto video, perché nonostante diciamo l'ecologia e l'inclusività di questo genere di automobili, le elettriche, che tra l'altro io uso spessissimo, ripeto, ho fatto 60.000 km l'anno scorso, solamente lo scorso anno in elettrico, quest'anno ne avrò già fatti 5.000, ma di più anche, devo fare i conti, no, di più di 5.000, ne avrò fatti 10-15, già, sicuro, perché tra tutte quelle che ho provato ultimamente, che dovevano conoscere i video e tutto, no, no, sicuro, almeno 10.000, poi vediamo, però ne ho fatti tanti, meno dell'anno scorso di sicuro, però ne ho fatti tanti, perché mi è anche capitata qualche auto a benzina da provare, quindi sto tirando indietro il monte chilometri delle auto elettriche, però sta succedendo una cosa a Palm che, diciamo, da un certo punto di vista, guardandola un po' alla lontana, ma concettualmente è simile, ricorda un po' la questione di Utrecht, cioè si sono accorti, li a Palm, che nelle ZTL le automobili elettriche, perché loro consentono il passaggio e lo consentiranno anche dopo il primo di maggio, però si sono accorti che ci sono troppe auto elettriche, perché giustamente qualcosa la stanno vendendo, anche se in Italia viaggiano al 3-4%, ma iniziano a destra, cioè di Tesla in giro, ne vedete, di qualche ID, qualche Volkswagen ID, ce n'è di roba elettrica, no, che gira, le Kia Niro, tutte queste robe qua. Quindi, giustamente, dice, se tutte queste, cioè, sono troppe macchine elettriche, quindi mentre prima, diciamo, potevo fare il liberal eco chic e dire, entrate pure con l'auto elettrica che nel mio centro siete benvenuti a Palm, andate a prendervi il Palmoledio e vi tagliate giù due fettine di prosciutto crudo, adesso invece ce ne sono troppe, quindi effettivamente diciamo bisogna dare un giro di vite a tutta questa roba qua, perché sennò il centro diventa un casino, cioè diventa esattamente come non avere la ZTL. Quindi, cosa ha fatto il sindaco di Parma? Ha detto, ha preso in mano la situazione, ha detto, le isole, rispettate che hanno un nome pure queste, le isole, dunque, nelle isole, non puoi più passare nelle isole ambientali e nelle corsie preferenziali. Le isole ambientali, posso immaginare sia un po' come la zona dove vivo io qui a Padova, ovvero la zona pedonale all'interno della ZTL. Pensa a te come sono finito qua. Poi tra l'altro non sopporto questo tipo di ambientazione, è proprio oltre le mie capacità. Buongiorno signore, buongiorno, buongiorno. Però, vabbè, sono finito qua per svariati motivi. E capisco, diciamo, il senso di quella questione lì, cioè hanno intenzione, diciamo, di dare un giro di vite perché effettivamente prima con l'auto elettrica potevi andare dappertutto. E quindi ha detto, lì non ci vai più e poi non ci vai più nelle corsie preferenziali, a parte che la trovavo comunque una puttanata, il fatto di permettere a una macchina di passare in una corsia preferenziale, che senso ha? Però evidentemente poi si erano trovati imbottigliati con la gente e non riuscivano magari a passare con l'autobus o col tram, per dire, no? Non so se adapparmano il tram, non mi sembra, ma hanno sicuramente gli autobus. Quindi, girone di vite per sistemare sta roba. Però, allora uno dice, ma cosa c'entra con Utrecht? A Utrecht parlavano di limitare la possibilità di erogare energia. E' certo, ma è la stessa cosa. Cioè, mentre da un lato, diciamo, si sono accorti che la rete elettrica, la quantità di energia non ci sa quale sia il problema, ma sicuramente è, diciamo, la creazione di quella rete elettrica lì, crea problemi alla cittadinanza, perché le auto elettriche in carica tirano dentro troppa corrente, quindi, diciamo, per mille motivi che sono anche legati al fatto che hanno una rete elettrica, hanno detto, la prima cosa che hanno detto dopo averle spinte per anni è no, vi limito, o vi limito la corrente, o, diciamo, la pongo, la metto a ore, cioè, a un certo orario la chiudo. Che è una limitazione per la libertà personale di chi ha un'auto elettrica. Quindi, questo video qua, occhio, perché non è contro l'auto elettrica, io non sono contro l'auto elettrica. Anzi, lo ripeto, lo ribadisco, le auto elettriche native, 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 le Tesla, le Renault con la piattaforma, quella giusta, alcune, la BMW i3, ci sono state delle macchine che, a mio parere, hanno avuto, hanno avuto e hanno, sicuramente qualcosa da dire, e possono essere agli occhi di chi ama la tecnica anche degli oggetti interessanti. Le prossime Toyota con la piattaforma, per intenderci, gigacastizzata, tutta sta roba qua. Quindi, a me quella roba gli piace, ok? Mi piace. Non la ripudio, ecco. Mi piacciono già meno le robe convertite, anzi, molto meno. Le trovo assurde, perché non fanno bene né una né l'altra. Però, quello è un altro discorso, ne parleremo magari in un altro video. Però, quindi, Utrecht, limitano, ti limitano, dopo avertela spinta, ti limitano nell'uso, ti limitano nell'uso, ti limitano nell'uso, hai capito? È a favore tuo dichiarato elettrica, questo video, e ti limitano. Quindi io segnalo e denuncio il fatto che la politica limita, limita, limita la libertà personale delle persone, la limita, limita anche la tua libertà personale, che pensi che io sono contro l'auto elettrica. Capisco che tu sei fan con la banderina, in giro, eh, non c'entra niente quella roba lì. Limita la tua libertà personale, quindi io denuncio il fatto che limitano la tua libertà personale. Capisci il senso della questione? Stessa cosa è il ragionamento di Parma. Per carità, ci puoi ancora andare dentro le ZTL, quindi non c'è nessun reale vincolo di un certo tipo, però in alcune aree hanno iniziato a stringere. Il prossimo passo sarà stringere la ZTL, perché quando iniziano adesso c'è un botto in giro, poi vediamo quante gente saranno in giro, ma nel momento in cui aumenta il numero è chiaro che poi quella norma che permetteva alle macchine di accedere a delle aree, diciamo, come si può dire, sensibili, è chiaro che deve essere un po' rivista. Quindi intanto partiamo da queste due cose qua, quindi via le aree, come le chiamano, aspetta, perché evidentemente ce n'è più di qualcuna, isole ambientali, e via anche le corsie preferenziali. Tra l'altro poi ci sono anche delle rivisitazioni per quanto riguarda le aree di parcheggio e tutte queste robe qua. Tra l'altro, contemporaneamente a tutto questo, anche a Milano, dopo le buche, ma si può lasciare delle buche grandi così, guardate che non ci sta neanche nel video, in via le forlanini profonde così, guarda, mi non dico niente, ma neanche hanno taso, come si dice, come si dice alle mie parti. Però loro non sanno neanche dove è via forlanini, quelli che non lo sanno, perché loro vanno in giro in bici, cioè loro vivono in centro a Milano, lavorano in centro, si muovono a piedi, o con la bicicletta, con scritto Noil dietro, avete presente? Sono esattamente quei personaggi lì, con scritto Noil, quando vedono una macchina fanno brrrr così, già che è una macchina elettrica, lo fanno un po' meno, fanno brrrr, a posto di fare brrrr così, perché loro sono cresciuti in centro, vivono in centro, sono delle persone che non sanno nemmeno cosa vuol dire la periferia, un povero, nonostante siano diciamo di un movimento politico che dovrebbe sostenere anche questo genere di integrazione, un povero non l'hanno mai visto in vita loro, gli fa schifo anche il povero in assoluto, tendenzialmente, e quindi ti ritrovi diciamo in situazioni dove dopo averla spinta all'auto elettrica, perché era più ecologica dell'altra, quindi facevi bella figura anche con i confronti di un certo tipo di elettorato, adesso stanno iniziando a pensare di limitare, quindi la ZTL, lì che si chiama Area C a Milano, dovrebbe diventare, almeno questa è la proposta che c'è, cioè si arieggia diciamo il fatto che potrebbero mettere a pagamento anche l'accesso alle ZTL per le automobili elettriche, hai capito cosa sta succedendo? Quindi dopo avertela spinta, dopo aver detto no ma se compri questa, entri in ZTL, entri in Area C, fai questo e fai quello, in realtà non farei niente di tutto questo, perché chi ti comanda, ripeto, abita in centro, va in giro in bici, va in giro a piedi, lavora in centro, la periferia non l'ha mai vista in vita sua, non gliene frega neanche niente, non vanno a lavorare come vai a lavorare tu, e quindi fuori città, non fanno le code la sera, tutte queste cose qua, frega cazzo, e quindi ti ritrovi poi a lottare, contro diciamo anche cose che magari, per cui magari avevi comprato quel genere di automobili, e diceva ma tanto, almeno riscontrare l'uscita da città, per 4-5 anni ho leasing di sta macchina, riscontrare l'uscita da città, no, sarà come andare a Benza, almeno questa è la proposta, poi vediamo quello che succede, però quello che voglio dirti, e ripeto il concetto di prima, è che dopo avertela spinta, dopo avertela spinta, ti tolgono la terra da sotto i piedi, quindi ti ritrovi nella stessa identica condizione delle macchine di prima, faranno fatica a portare avanti tutte queste tematiche, perché comunque fai una brutta figura, dopo aver spinto per così tanto tempo a cambiare idea, non so, vuol dire che hai avuto poca visione, o magari diciamo non sapevi quello che dicevi prima, però qua a Padova per il momento tutto a posto, si può ancora entrare e uscire, non si sentono voci strane relativamente a questo tipo di cambi, però a parte che poi a Milano, se non ho capito male, vogliono mettere anche la ZTL, quindi l'aria C a partire dal 6 di mattina, non dal 7 e mezza, te voglio vedere, però l'altra cosa che secondo me andrebbe rivista, io potrei anche essere d'accordo con il discorso di andare in giro con le biciclettine in oil, perché comunque i centri storici hanno un tipo di arredamento, hanno un tipo di architettura, un tipo di cose che chiaramente è un po' delicata, basta solo pensare alla pavimentazione, quando ci passa sopra una macchina da 2 tonnellate e mezzo, ovvero la macchina elettrica ecologica, spacca tutto, ma è normale che spacca tutto, pesa e quindi deve pur girare, deve pur frenare, deve pur portare 5 persone a questa macchina, quindi pesa un botto e quindi tutta la pavimentazione te la distrugge, quindi oggettivamente capisco il senso di limitare l'accesso alle automobili in certi tipi di aree, lo capisco anch'io, pensa, lo capisco anch'io, però non metterei limiti diciamo all'escorso ZTL legato alla tipologia di carburante utilizzato dalla vettura o come trae energia per muoversi, lo limiterei piuttosto o al peso della macchina, ma quello diventa già un pochino più complicato, o alla dimensione della vettura, cioè io farei un centro storico in cui sono ben accette le macchine diciamo fino ai 4 metri, la Yaris, le Smart, le vecchie Fiat 500, la 500 nuova, la Panda, cioè tutta sta roba qua, che sono veramente delle utilitarie, rompono le palle pochissimo, quindi permetterei a queste persone di poter entrare, a tutti gli altri, allora sì, ti faccio a pagamento, ma perché c'è un problema oggettivo, cioè quelle macchine lì spaccano, rompono le cose, le macchine grosse hanno del peso e chiaramente sono ingombranti, occupano spazio quando parcheggiano, c'è tutta una serie di cose che possono effettivamente andare contro quello che è l'arredamento urbano e anche chiaramente la coesistenza dell'oggetto di mobilità con ovviamente la vita normale delle persone, quindi da questo punto di vista posso essere d'accordo, ma è assurdo legare all'inquinamento che è ragazzata, il fatto di poter accedere o meno a un centro storico, è una puttanata, diciamo, ce la può una puttanata, quindi questa cosa qui, diciamo, può essere vista, secondo me, andrebbe fatta per dimensioni di automobile, non l'ho fatto ancora nessuno, mi rendo conto che diventa un po' complicata la faccenda, ma probabilmente potrebbe effettivamente anche avere un senso, anche perché poi, anche in ZTL, come questa di Padova, ti ritrovi in situazioni assurde dove devi passare per forza per il centro, per intenderci, c'è un tratto qui dove c'è il tram in cui se vieni in discesa puoi farla, se vai in salita non puoi farla, nessuno ha mai capito perché, però se tu vai in salita devi per forza girare poi a sinistra, alla Feltrinelli qua, per chi è di Padova, e ti devi fare tutte le piazze, quindi devi passare, devi fare il giro delle piazze di Padova, delle piazze principali di Padova con la macchina, perché loro non ti fanno fare i stessi 100 metri che in discesa puoi fare mentre in salita li puoi fare, e quindi far tutto il giro della città con la tua macchinina elettrica, per carità, quindi non inquini, però gli spacchi la roba sotto, e dopo riesci, dopo 10 chilometri di giro, esattamente dove sareste uscito 100 metri dopo. Capisci? Ecco, sono poi questi poi i veri problemi, secondo me, delle città che hanno spesso delle urbanistiche che sono realizzate da topogigio, e hanno, diciamo, anche delle regole per quanto riguarda l'accesso alle aree sensibili veramente drammatiche, cioè legare all'inquinamento il fatto che la macchina possa entrare o meno è una cazzata, diciamocelo, è demagogico e non ha senso. Se lo leghi a dimensione di peso, allora ti posso anche dar ragione. Se poi chiudi tutto perché dici non voglio le macchine, ci può anche stare, però allora non le vuoi, metti solo proprio i residenti e basta. Allora quello può avere senso. Ma mettere l'area C a pago che cazzo di senso ha? Ad esempio, per ragnare dei soldi sul nulla poi, perché poi non rifai le buche, quindi dove li metti quei soldi lì? Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, detto questo, tra l'altro più di mille euro di danni. Più di mille. cerchio, gomma, altra robetta, un po' piegattina, però andate così. Allora, detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate, fatemi sapere cosa ne pensate di queste regole che cambiano, ecco, di queste regole che cambiano, fatemi sapere cosa ne pensate della tripla chiocciola e full gas e sempre, non nei centri storici però, soprattutto nelle isole ecologiche. Mi raccomando, date piano. Ciao.